Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro di Giulio Regini. Lo ha comunicato il procuratore Michele Prestipino e il procuratore generale d'Egitto Hamad Al-Sawi in un incontro in videoconferenza. Il procuratore generale egiziano riporta una nota congiunta nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio e parla di prove insufficienti. In ogni caso la Procura generale d'Egitto rispetta le decisioni che verranno assunte nella sua autonomia dalla Procura della Repubblica di Roma. Per la Procura generale di Egitto l'esecutore materiale dell'omicidio di Giulio Regini è ancora ignoto. Hamad Al-Sawi ha raccolto prove sufficienti nei confronti di una banda criminale accusata di furto aggravato degli effetti di Regini che ne sono stati rinvenuti nell'abitazione di uno dei membri della banda. Mattinata di passione per chi si trovava ad attraversare la tangenziale in direzione di Silea. Un camion in prossimità dello svincolo con la Treviso Mare è sbandato andando a finire contro lo sparti traffico. L'incidente ha provocato il quasi totale blocco del traffico nella zona lungo la direttrice Treviso Silea. L'autotrasportatore un 54enne padovano è rimasto illeso. Al lavoro per la rimozione del mezzo i vigili del fuoco di Treviso e Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della linea radio mobile della compagnia di Treviso e la polizia locale. I resti umani ridotti ormai al solo scheletro sono stati ritrovati nella zona del perimetro esterno dell'ex polveriera sita nei pressi della località Raut a Trieste. La notizia è arrivata solamente in queste ultime ore. Trovare lo scheletro della persona al momento sconosciuta sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine, sul posto giunti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Il PM Pietro Montrone ha aperto un'indagine coordinata dal procuratore capo Antonio De Nicolo per risalire l'identità della persona sul posto. Anche il medico legale Fulvio Costantinides è molto probabile che venga disposta un'autossia e ulteriori accettamenti per individuare le cause del decesso e risolvere il giallo. Una donna di 66 anni è stata tratta in salvo la scorsa notte dai vigili del fuoco che l'hanno trovata tenuta per il fumo inalato nell'incendio del suo appartamento a Valstagna, Vicenza. Le fiamme erano divampate poco dopo le ore 23. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa in supporto da Feltre con due autopompe, un autobot e dieci operatori. Sono entrati con l'autorespiratore nell'appartamento completamente invaso dal fumo, trovando la donna svenuta all'interno che è stata subito portata fuori, assistita dal personale sanitario del SUEM e trasportata in ospedale. Le due squadre hanno spento le fiamme che erano nate nel locale Soggiorno Cucina. Le cause dell'incendio al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso messe in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa due ore. Stavano cercando di vendere a Trieste alcuni quadretti artigianali fatti da loro con libera offerta, ma sono residenti a Udine e dunque hanno violato le norme anti-covid. Per questa ragione sono stati sanzionati dalla polizia e nei loro confronti sono stati emessi fogli di via obbligatori e rimpatri da altri comuni. È accaduto ieri pomeriggio in via delle torri a Trieste. I due giovani di vent'anni sono stati notati da una volante della questura che li ha fermati e identificati e non ha rilevato alcuno stato di necessità o di urgenza che motivasse il trasferimento da un altro comune. Sono stati tutti condannati all'ergastolo, i tre imputati per l'omicidio di Vasile Todi Reanna. Il senzatetto rumeno bruciato l'8 luglio del 2019 alla stazione di Villa Franca di Verona è morto dopo due mesi e mezzo di agonia. Liliano Bosoni, 64 anni, il rumeno Cristian Tuca di 60, entrambi senza vista di Mora e il Villa Franchese Rosdemori di 43 anni sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio pluriaggravato. La sentenza è stata emessa ieri sera a tarda serata dalla Corte di Assise di Verona presieduta da Sandro Sperandio e ha colto in pieno le richieste del pubblico ministero Elvira Bitulli. Oltre 311 mila tonnellate di emissioni di CO2 evitate, più di 110 milioni di euro di investimenti in tecnologie innovative, 1,6 milioni di tonnellate di materiali alternativi recuperati e utilizzati in sostituzione di materie prime naturali nel processo produttivo. Sono alcuni dati che emergono dal rapporto di sostenibilità diffuso da Federbeton, la federazione che in ambito di Confindustria rappresenta le associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo. Buone energie e tante piccole felicità. È in edicola il nuovo almaracco Barbanera. Consigli di buon vivere per la vita in casa, la famiglia, il benessere, l'orto, il giardino e il balcone, seguendo la luna e le stagioni. Almanacco Barbanera 2021, in edicola con due preziosi regali, l'oroscopo 2021 e il calendario La Luna in Casa, per un nuovo prezioso anno di felicità. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno nel pomeriggio poco nuvoloso sulla costa Bora moderata sostenuta dalla sera. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni da deboli a moderate a partire dalla costa e dal pomeriggio inizialmente nevose, oltre i 300 metri circa. Localmente, temporaneamente, sarà possibile neve mista a pioggia su pianura e costa, sulla costa Bora forte in pianura, da moderata a sostenuta. Passiamo al Veneto, cielo in genere poco a tratti parzialmente nuvoloso, specie verso ovest. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ovest. Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto nel corso della giornata. Precipitazioni fino a parte della mattinata di domani, probabilità medio-alta, diffuse sulla pianura centro-meridionale, altrove fenomeni generalmente assenti o al più deboli, in seguito tendenza ad aumento della probabilità e ad estensione delle precipitazioni fino a divenire diffuse. Nel corso del pomeriggio in pianura possibile iniziale temporanea attenuazione e diradamento dei fenomeni che si presenteranno in maniera sparsa e intermittente per poi riprendere dal tardo pomeriggio sera in maniera diffusa. Limite della neve inizialmente fino ai fondovalle prealpini, risalita fino a circa 500-700 metri. In mattinata non si esclude qualche fiocco anche in pianura. Temperature minime in aumento in pianura e indieve calo sulle zone montane, massime in diminuzione. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPA Vagenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!